Chi volesse vedere contenuti inediti inerenti al podcast, può trovare sul nostro profilo Instagram OneMoreTimePodcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in descrizione. Io sono Luca e questo è OneMoreTime. Musk non è un proletario, è uno che fa miliardi, gli fa bene a modo suo, però non è che fa Babbo Natale quando dice che compra Twitter perché fa bene all'umanità. È un simpatico, però no, non è esattamente così e quello che lui vuole è questo, è che tutti stiano su 280 caratteri quanto sono oggi Twitter. La democrazia è una cosa molto complicata, su cui bisogna ragionare, il futuro è complessissimo da qualsiasi punto di vista. Allora, la liturgia di OneMoreTime è partire dall'inizio, dare valore ai fallimenti, ai momenti bui perché sono formativi nella vita delle persone e quindi io le chiederò, è la prima volta che do di lei, però giustamente per rispetto della poca differenza di età lo faccio, quindi mi piacerebbe parlare molto con Paolo Persona. Vai. Quando nasce e dove? A Torino, in un posto che si chiama Corso Sommelier, che io ricordo molto bene perché io ho degli stranissimi ricordi, direi quasi prematuri, nel senso che ricordo delle cose che normalmente non si riesce a focalizzare perché sei veramente piccolo, però non so perché, ma sono stato molto prematuro dal punto di vista della curiosità, delle cose e quindi ricordo perfino quell'età. Io sono poi andato via da Torino, credo a cinque anni. In che famiglia nasce, nel senso che genitore ha avuto da un punto di vista di coccole, di amore fisico? Intanto io vengo da una famiglia di artisti, nel senso che i miei nonni erano tre su quattro artisti, nel senso che mio nonno e mia nonna paterna lo erano, mio nonno materno lo era, diversi, molto. Un intellettuale dell'arte, un artigiano dell'arte? Un artigiano, però sì. Un ceramista, giusto? Un ceramista, lui faceva di tutto, sapeva fare tutto perché all'epoca quegli uomini avevano delle mani prodigiose, poi chi arrivava lì era iperselezionato, nel senso che le accademie erano luoghi dove non facevano andare avanti chi non sapeva disegnare, chi non sapeva fare la kine. I miei nonni entrambi facevano anche cose molto difficili, tipo per esempio l'acquarello, l'acquarello era una tecnica pazzesca, basta smagliare una penna e l'altra, butti via il foglio. E allora la carta costava. Quindi questo è il mio habitat. mio padre, professore universitario di medicina, si era laureato a Firenze perché nel frattempo poi mio nonno si era trasferito a Firenze, prima a Lucca poi a Firenze, ha insegnato all'accademia lì, mio padre si è laureato lì prima della guerra, poi c'è stata la guerra, poi c'è stato il dopoguerra, poi è arrivata mia mamma, un gran ballo del circolo ufficiale. Ma Coccole come era messo? Era messo bene perché mia nonna romagnola non era forse iper affettuosa, nel senso di come si pensa adesso, gi 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 gi, ecco quella robina là. No, però la carezza, il complimento. Quelle miliardi, miliardi. Però con una certa sobrietà, a me non mi è mai mancata quella vicinanza che sapevo che c'era, nel senso che c'è sempre stata. Ma andava interpretata o era dichiarata? No, era molto da interpretare, no, dichiarata c'è da poco. No, no, il ti voglio bene, queste cose qua, sì, ovvio che sì, ma non le ricordo, nel senso buono, nel senso che c'era il bene e non c'era il ti voglio bene. Ok, e poi quindi cambia città all'età di cinque anni. Padova, perché mio papà ha cominciato a insegnare lì, poi ha fatto una grande carriera all'università di Padova. Padova era ovviamente vicino a Venezia, quindi vicino alle sue radici, e la sua città, perché lui era nato da Venezia, veneziano, mio nonno, mio nonno. E quindi siamo tornati volentieri lì. In realtà poi mia mamma, che era cresciuta al mare, a Pesaro, ha sempre mal digerito quella nebbia, perché poi la Padova degli anni 50-60 era la Padova padana, culturalmente non strepitosa, perché era molto bigotta, molto anche ipocrita. C'era una piccola parte in cui mio padre era inserito, che era una piccola parte dell'accademia laica, per cui l'esercizio e la libertà l'ho conosciuto lì, da subito. Figlio unico? No, mio fratello Matteo ha due anni più di me. E che rapporto avete? Buono, buono, anche se siamo lontani, viviamo lontani, viviamo anche due vite molto diverse, ma ogni volta che ci vediamo scopriamo la bellezza anche di tante cose che abbiamo vissuto assieme. Essendo lui più grande di me faceva un po' da rompighiaccio, da ragazzini, qui facevamo... Giocavate insieme quando eravate ragazzini? No, 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 perché io avevo dietro casa mia, a Prato della Valle, che è un luogo meraviglioso, dietro c'erano i preti dell'Antoniano, che erano per noi, dal punto di vista familiare, poco interessanti dal punto di vista della cultura e del potere enorme che avevano in città. l'Antoniano, c'è passato anche Mario Draghi, era l'establishment, vero. Mio padre faceva parte dell'establishment, ma di quello meno genuflesso, vedevano così. E io andavo dai preti perché c'erano i campi del pallone, c'era spazio ed era cinque minuti dal cancello di casa mia, per cui mi potevo sfogare, questo credo che fosse importante, perché io ero molto ribelle, avevo bisogno di spazio, mentre mio fratello era molto più riflessivo, molto più... Ponderato. Sì, mio fratello è all'interno, io sono all'esterno. E con chi si confidava di più tra suo padre e sua madre quando era piccolo, adolescente, quando c'erano dei problemi, chi era alla spalla, se mai ce ne fosse stata una? Non nel senso classico del tema, mio padre no. Ok. Il padre era... Me lo sono goduto anche così, nei suoi ritorni alla sera, dall'ospedale, le chiacchiere... Era molto ironico, perché mio nonno a sua volta era... Mio nonno era sarcastico, era diverso. Mio padre era ironico, mia madre era una donna... Come posso dire? Si vedeva che era cresciuta non lontano dalla Romagna. Ok. Cioè, nel senso che era molto... Era una che ti tirava fuori i problemi, per cui con lei certo ho parlato, però non c'era la moda di... Per questo poi nella mia vita professionale ho sempre detestato i genitori amici, perché penso che non ce ne sia, ma gli amici sono quelli con cui giochi a pallone. Per amici magari è la complicità di non avere un giudice, ma avere una spalla con cui confrontarsi. Sì, sì, ma io sono stato anche giudicato, nel senso che era anche giusto che qualcuno mi giudicasse o valutasse, poi dipende dai verbi, perché io era veramente complicato. Cioè, io nella mia vita ne ho schivate tante, a volte neanche proprio schivate, prese. Ho cominciato da ragazzino, che studiavo poco, perché non trovavo passione, sì, le medie, il liceo, queste cose qua. Mi interessavano più i ragazzi e le ragazze del liceo, o anche qualche professore del liceo mi interessava, mi piaceva, mi affascinava, ma non le materie. Le materie poi ho dovuto cercarmene un po' da me. Schivare vuol dire che qualche botta l'ha presa da piccolo? Beh, sì, penso proprio di sì, nel senso che da sempre. Cioè, io mi sono spacchato da una volta, un taglione, perché ho preso una ringhiera. No, no, intendevo se il suo padre la picchiava. No, 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 no. Botte perché era esagitato, è semplicemente questo. No, no, botte nel senso che sono andato da bicicletta. Si faceva male facendo sì. No, no, le cose che succedono ai bambini agitati. Da questo punto di vista mio padre e mia madre erano due persone che non hanno mai avuto bisogno di usare la violenza perché c'era autorevolezza in loro. C'erano delle regole molto precise. Bastava uno sguardo o una frase territoria. Assolutamente, se si tornava più tardi del previsto c'erano delle conseguenze, ma non le botte. Le botte non so neanche cosa vogliono dire. Né io ho mai venato. Dalla poca voglia di studiare nell'adolescenza, dove ha trovato poi lo sprone, lo stimolo per andare all'università? Ma molto anche andando a trovare mio padre all'ospedale. perché l'ospedale dove lui lavorava era una cosa molto felliniana. Nel senso che era molto moderna perché era stato costruito negli anni 60. Era molto d'avanguardia. Mio padre faceva il medico del lavoro, quindi all'epoca c'erano povere anime, ex minatori, gente che faceva cuoio, si ammalavano come le mosche. E quindi c'era quest'idea di dare un contributo. Della cura, c'era questo popolo. Poi mio padre era un vecchio socialista, per cui si trovava, sguazzava bene con tutte quelle persone. Io vedevo questa riconoscenza che la gente aveva nei suoi confronti. E poi c'erano dei luoghi che sono stati luoghi della mia fantasia, per esempio il cinematografo, perché al piano, credo, terra o addirittura sotto terra, non mi ricordo. C'era una grande sala di cinema, dove io la domenica andavo spesso. C'erano dei film imperdibili, perché ovviamente facevano Maciste, Spartacus. Hercules e tutte quelle serie lì. E quindi ero io, credo anche mio fratello, e poi tutti gli altri erano una specie di moribondi. Ma cosa la tratta di quel momento? Il fatto che suo padre fosse una figura utile, che lo vedevano come una persona, quasi come un supereroe, nel senso che poteva fare qualcosa per il prossimo, o perché sentiva il forte bisogno di dare un contributo all'umanità, nel senso che entrano nel mondo della medicina. No, mio padre credo proprio piacessero le persone, le storie delle persone, le storie delle fabbriche dove lui andava, perché ovviamente l'attività non era solo in un ospedale. E questo poi me le riportava nei suoi racconti, nelle sue cose. Però, vede, la mia famiglia è stata proprio una sorta di luogo dell'understatement. Cioè, nel senso che tutti facevano qualcosa, ma nessuno non lo diceva. Ok. Per esempio, io ho scoperto di mio nonno, quello paterno, che aveva lavorato con Modigliani, credo 15 anni fa. L'ho scoperto io, attraverso delle mie ricerche vicino a Firenze, dove c'era un signore che aveva collezionato le cose di mio nonno, e mi consegnò queste lettere che Modigliani aveva scritto, dei suoi amici a Livorno, perché da Livorno era andato a Venezia, poi da Venezia andò a Parigi. E parlava di questo signore simpatico, Charles Signore, il suo coetaneo ragazzotto, che gli faceva vedere Venezia, perché ovviamente è stata una guida per lui. Come si chiamava? Angelo Maria. A me è sempre piaciuto molto questo fatto di non sbandierare, di non fare quello che. Io ho pensato mille volte, ma uno, non so, se gli fosse capitato di prendere un caffè con Picasso, avrebbe rotto le palle per 40 anni, a dire, girava lo zucchero in quel mondo. invece uno sta due o tre anni con un genio del Novecento, e il bello è che non lo dice nessuno. Io l'ho trovato fantastico. In un mondo che si sbandiera per nulla, chi invece ci avrebbe gonfaloni e bandierone, lo tiene per sé, lo tiene per sé, perché poi ho capito che era una cosa sua in realtà. non c'entravano i libri di storia dell'arte, ne c'entrava una vicenda umana anche molto sofferta, questo l'ho capito, profondamente sofferta, perché erano due ragazzi che hanno dovuto decidere dove andare. Da una parte si scopriva il mondo e dall'altra parte il mondo stava finendo. Venezia era quello che stava finendo. E a proposito di muse ispiratrice, geni, mentori, lei ne ha avuto uno nella vita? Sì, più di uno. Uno in particolare. Una guida in particolare che è Basaglia? Cosa vuol dire un mentore? Vuol dire che ti attrae, ti affascina in un mondo che non avevi considerato prima, cioè ti fa diventare compulsivo in un qualcosa che fa parte in modo totalitario della tua vita. Che cosa significa avere un mentore? Ma un appuntamento. Ok, costante. Un appuntamento che tu cerchi, perché non devi cercare, non viene da te. Ma come si fa a far sì che questa persona ti dia la disponibilità? Vuol dire che deve essere anche lui attratto da lei? Ma certo, ma io ho sempre stato un po' snob e ho sempre avuto anche un pessimo carattere. E in questo io e lui ci assomigliavamo molto, perché Basaglia era una persona non facile, ricordo delle litigate furibondi con i suoi amici che andavano avanti fino alle due, alle tre di notte. No, sulle cretinate, sul mondo, sulle grandi. E questo mi affascinava molto, ma anche personalmente era una persona così ardita, era ardita anche come carattere e poi era anche lui enormemente ironico, era uno che prende in giro tutti e con me probabilmente, non lo so, perché poi lo deduco dai fatti, aveva trovato così una santa di giovanotto simpatico con cui c'erano tante affinità, per esempio io e lui siamo andati in giro per il mondo sempre a cercare botteghine, piccoli negozi di antiquariato, ci piaceva contrattare il prezzo e poi non comprare niente. Insomma, lui era più vecchio di me, ma eravamo due ragazzi interessanti. Il suo ruolo era far la spugna silenziosa? Il mio ruolo era sancia pancia. Qualcosa che le si porta ancora dentro che lui le ha insegnato? Ma mi ha insegnato a non essere basagliano, per esempio. Lui diceva fai di tutto ma non essere me stesso. Questo lo trovai molto interessante, nel senso che è un po' come si dovrebbe dire oggi, non seguo la moda ma ho un mio stile. Questo sarebbe molto interessante, declinato proprio in questi giorni, quest'era che tende molto alla moda e poco alla declinazione di sé. Entriamo nel percorso dei studi ma molto velocemente per poi arrivare a entrare in profondità in delle cose che vorrei sapere. Quindi la prima facoltà che frequenta, la prima laurea? A un certo punto, siccome mio padre era presso di facoltà di medicina, mi capitavano queste cose che io detestavo, cioè la solita domandina ma lei è parente di, e allora la terza che mi hanno detto, io ho detto a mio padre che mi è andato via, lui non mi ha detto niente, in realtà sono andato a Verona, ma non a caso, perché lì c'era il più grande neurologo italiano che si chiamava professor Terzian con cui mi sono laureato, che era un geniaccio incredibile, amico fraterno di Franco Barzagli. Armeno, quindi figlio del mondo, un uomo che non sapeva cosa voleva dire provincialismo, quella gente che sapeva quattro lingue, che passava da Pirandello ai neuroni con molta facilità. E da lì fa una seconda... E da lì, no, da lì poi ho pensato che dovevo lavorare subito, perché avevo furia di andarmene via, andai ad Arezzo, dove in realtà ero già stato da studente, perché c'era uno di questi manicomi cosiddetti aperti, mi interessava lavorare lì, e così presi una stanza con lavandino incluso. Mi ricordo che in quella assoluta miseria, perché poi veramente se ci ripensa non c'era niente, ero felice. Cosa hai imparato da quell'ambiente? Da un manicomio? Il manicomio era un posto per me straordinario, perché da un lato c'era la sofferenza pura e non quella così delicata, un po' così... C'era quella pura, c'era proprio... Poi perché era un luogo studiato da mezza Europa, per cui venivano, da ovunque, c'erano ragazzi e ragazze, c'era il lavoro, ma io non ho mai capito bene cosa fosse il lavoro, cosa fosse il non lavoro, non ho mai... Poi, siccome il dolore era parecchio, aprì una galleria d'arte per confortarmi verso sera, quindi avevo conosciuto questo grande... C'è stato uno dei più grandi antiquari italiani che stava là e che mi aveva preso in simpatia, ha detto tu vuoi fare una galleria? Ti do il mio fondaco, che era un fondaco etrusco, meraviglioso, dove io per qualche anno tendi questa galleria d'arte, non guadagnai una lira, ovviamente, però era divertente, c'erano un sacco di artisti che sono venuti, è stato molto bello per me, perché ho sempre tenuto insieme queste cose, non ho mai potuto scindere, quando sono andato in giro per il mondo ho sempre cercato qualcosa che avesse a che fare con la bellezza, con l'armonia, con l'incanto, con queste cose qua, non ho mai amato essere chino sul lavoro, ho sempre pensato che lavorare fosse tenere gli occhi in alto. L'estetica, la creatività. La creatività è sempre stato uno, poi disposto sempre a qualsiasi cosa e poi detta, pensata dopo, avevo ragione, nel senso che, per esempio, una svolta della mia vita è stata una bistecca, nel senso che il direttore del manicomio era arrivato da non molto, io sapevo già bene l'inglese perché ero stato a Londra, figlia da ragazzino che da studente di medicina, quindi mi chiamò, mi dicono che sai bene l'inglese, mi diceva, cosa fai stasera? Niente, ti fa una bistecca, magari per me una bistecca era come mangiarsi tre tartufi, e quindi vieni in questo posto perché c'è un signore così ti metti vicino, fai due chiacchiere, lo trattini un po', e così incontrai questo noiosissimo signore che non sapeva neanche chi fosse, ma neanche chiesto in realtà chi fosse, e il giorno dopo mi dissero che era il numero uno degli psichiatri del mondo perché era il capo dell'organizzazione mondiale della sanità per la parte salute mentale, e prima di andare via questo signore, evidentemente gli ero simpatico per come mangiare la bistecca, non lo so, o per il mio inglese, e mi disse ma tu vorresti fare un concorso e io senza neanche sapere cos'era in realtà, ho detto ma certo, se mi avessero detto vuoi andare in Sara, in bicicletta, io ho detto perché no, cioè io non ero un concorso. Era un concorso dell'organizzazione mondiale della sanità per uno studio che è stato uno studio importante che si chiamava International Study on Schizophrenia che è stato forse il lavoro più importante nel campo delle psicosi e io lì cominciai a lavorare dall'India all'Inghilterra. Lì hanno cominciato i suoi viaggi? Beh, avevo già cominciato da giovanotto, da... Però da turista, esploratore curioso, non per lavoro... grazie con le cose, ovvio, non stavo certo a Padova a grattarmi la testa, quindi... Poi ho sempre avuto amori e amicizie che andavano verso da qualche parte. A me le persone stantie, proprio dopo un po', sì, quattro chiacchiere in osteria, però poi non ne potevo più. Quindi, questa cosa qua è avvenuta e ovviamente poi quello è stato anche un trade union con Franco Basaglia. Poi ci sono state delle altre strane coincidenze, per esempio con i fotografi, perché la mia vita è stata molto strana, devo dire. Questo che arrivò, che si chiama Raymond Depardon, che è ancora vivo, uno dei più grandi fotografi del mondo, venne in manicomio perché avevamo pensato con Franco che bisognasse fotografare per far capire alla gente che cos'era, ma non ci credevo. E questo arrivò e da lì inizia una grande amicizia. Lui era già, aveva fondato DAMA, che era stata la più grande agenzia di fotoreporter del mondo ai tempi della guerra in Algeria e poi è entrato a Magnum, l'empireo dei fotografi del pianeta. E lui era un tipo simpaticissimo con cui avevamo sempre continuato poi ad avere più o meno rapporti a Parigi, eccetera. E questo mi aprì un'altra cosa perché poi morto Basaglia con Renato Nicolini che era il famoso assessore romano, quello dell'estate romana, quello delle follie più strabilianti, quello dei poeti maledetti sul lungomare vicino Ostia. Insomma, sono state cose epiche, poi era la Roma che ancora trasudava, non dico Fellini, ma tutto il resto sì, da Monicelli a... Quindi era una Roma meravigliosa quella in cui arrivai nel 79 con Franco Basaglia, lui poi morì e io sono rimasto lì in qualche modo non so perché qualcuno mi diceva rimani lì almeno apparentemente e quindi organizzai questa mostra che si chiamava Inventari di una psichiatria che è stata la raccolta di tutti i più grandi fotografi che hanno fotografato la follia. La follia anche in senso dei freak, dei mostri, di quelli strani per la città e poi mi telefonò la... era una cosa enorme mi telefonò l'ambasciata americana chiedendomi di andare là io subito pensavo a qualche cosa ho fatto qualcosa nell'ultimo viaggio e invece mi volevano dare un premio che era Lifetime che era una rivista la più grande rivista di fotografie dell'epoca come migliore mostra di fotografie. A questo è stato una cosa interessante perché cominciato in maniera che nessun altro poteva pensare che cominciasse così cioè fai lo psichiatra nel frattempo mi ero laureato in sociologia urbino fai lo psichiatra fai queste cose poi boh ti occupi di fotografie sembrava quasi che uno buttasse via del tempo invece non stavo guadagnando. Quando le hanno detto che Franco Basaglia era morto lei dove era in quel momento? sapevo che stava male l'avevo anche visto che era tornato a casa sua perché l'avevano riportato a casa io l'ultima volta che l'avevo visto diciamo così come ci ho parlato è stato il 2 agosto del 1980 ma il 2 agosto del 1980 io ero a Bologna e scoppiò la stazione e io dovevo prendere quel treno quindi è stato un giorno intenso beh sa vedere tutta questa gente squartata non è proprio quello che ti aspetti la mattina quando ti svegli già sapevo che non sarebbe stata una giornata facile e io ho preso la prima pulma cosa è successo alle 10-25 come qualcuno si ricorderà e andai a Venezia con il primo pulma perché non c'erano più treni che mi portò a Ferrara pomeriggio tardi poi arrivai a Venezia quei due tre giorni rimasi lì e poi lui morì mi pare il 30 di agosto e io lo seppi ma non era una una sorpresa nel senso che era quello che sapevo che accadere lui è stato male con me a Berlino prima volta che è stato male mi ricordo questa bellissima passeggiata fino ad arrivare al muro di Berlino lui imprecò contro il mondo perché quel muro era l'emblema dell'egoismo dell'uomo e io gli disse ma tu sei l'unico che non dovresti parlare male di quei muri perché li hai buttati giù e lui disse sì si butta giù un muro poi se ne fa un altro ancora più alto e guardando verso oriente oggi sappiamo che c'è un muro da febbraio che cos'è l'amore per lei cosa significa l'amore per lei ma tante cose creatività complicità divertimento ironia sorpresa io ho amato tante persone ma per me l'amore non è solo l'atto sessuale che mi sembra abbastanza limitativo anche perché tendenzialmente si ripete mentre tutto il resto no e quindi come puoi mangiare un hot dog al Long Beach è quando ti ricapita e quindi se sei uno che va a Long Beach se sei uno che incontra delle persone strane che ti dicono facciamo questo facciamo quell'altro ma io non è che sono stato uno che seguiva i gruppetti anzi sono sempre stato un po' delicatuccio da questo punto di vista però era interessante il fatto che quanto più tu sei generoso poi la gente è generosa con te in termini di esperienze di vita di racconti di vita di disponibilità di sguardi e questo è avvenuto tanti anni e continua ad essere naturalmente penso che non debba finire mai perché credo che le persone che ti raccontano delle cose sono le persone più preziose non ho mai scelto le persone dal punto di vista sociale economico non ho mai un po' come con l'understatement della mia famiglia no poi né potrei mai dire delle persone importanti che ho conosciuto perché secondo me sono cose mie e da uno di questi amori nasce sua figlia la sua unica figlia che cosa aveva di diverso quell'amore rispetto agli altri per prendere questa grande decisione di vita ma è venuto così eravamo ragazzi abbastanza giovani tutto sommato la madre Maddalena è una persona che lavorava nel restauro quindi c'era è sempre un incrocio con l'arte ma sì sarebbe possibile e poi sì un rapporto che poi si è evoluto in maniera così con delle discontinuità diciamo fino alla discontinuità finale nel senso che poi le due strade si sono separate Maddalena non lo so io non amo parlare di lei nel senso che della mamma di Maddalena o di Maddalena no di tutte e due soprattutto di Maddalena la mamma di Maddalena ormai siamo due persone di una certa età che possono prendere un tè no di mia figlia perché ho sempre timore di invadere sempre lei ha 27 28 e che rapporto avete? buono non lo riesco a decifrare infatti non è decifrabile ed è giusto che sia anche poco decifrabile perché non mi piace che sia è anche molto conflittuale nel senso che come è ovvio che sia avendo io un caratteraccio è ovvio che questo non sia limitato solo a qualche amico o a qualche persona con cui lavoro è proprio omnicomprensivo poi magari mi sciolgo via via però io ho un approccio molto anche severo per certi versi ma perché la mia vita è stata severa con me non è stata una passeggiatina così di salute mia mamma è morta giovane inaspettatamente lì non c'era nessuna previsione che potesse essere fatta quindi è stato un troncare un rapporto formidabile perché era un rapporto a distanza ma di grande complicità e di vera grande complicità e quindi quello ho dovuto come con Franco Basaglio ho dovuto ricontinuare io come se un attore improvvisamente dovesse fare due parti e non solo quella che c'era sul copione visto che lei nel suo percorso professionale guida molte persone a guardarsi penso innanzitutto dentro lei lo fa mai su se stesso purtroppo è inevitabile no perché da quello che mi diceva di sua figlia era come io sono fatto così no no ma non è che mi accetto io sono fatto così e sono in conflitto così nel senso che io mi chiedo io non sono uno che lei non sa chi sono io no che sia consapevole di quelli che sono i perimetri del suo essere ne sono assolutamente convinto volevo capire se lavorava a volte per allargare i confini beh quello lo fanno gli altri sono gli altri che ti aiutano ad allargare i confini e lei è disposta ad ascoltarli quando lo fai? sì anche i miei pazienti sono stati formidabili con me nel senso che come avrei mai potuto incontrare tutte quelle vite ma neanche vivendo mille volte invece una volta Pupia Vatti mi dice tu fai un lavoro che non è mica male perché tu vai a teatro e ci sono degli attori attrici spettacolari che raccontano le loro vite e poi alla fine ti pagano pure è così un po' magari per una volta sola è venuta ma questo avviene nella mia attività di psicoterapeuta ma avviene anche così io faccio talmente tanti ho fatto circa 3008 3009 non mi ricordo più serate conferenze di varie umanità diciamo così e ogni volta succede qualche cosa di strano io non dico mai di no sa perché? perché se tu dici di sì solo al teatro imperdibile di Milano o di Torino quella potresti anche evitartela effettivamente perché è talmente tutto previsto e prevedibile anche un po' scontato invece vai nel paesino nella frazione degli appennini pensi che l'altro giorno sono stato in un posto che io conoscevo da giovane che si chiama Anghiari che è un teatro meraviglioso e c'era talmente tanta gente che io non lo sapevo ma il sindaco aveva fatto ripire il teatro e poi a dieci e mezzo io pensavo di aver finito invece c'era la piazza piena sono andati via i primi sono tornati i secondi quindi io faccio due conferenze una dietro l'altra l'ho trovato meraviglioso cioè alle dieci e mezza è cominciata la seconda conferenza con tutti quelli che stavano aspettando dalle otto dalle sette e mezza allora non lo dico per vantarmi ma lo dico perché è veramente qualche cosa che non puoi saperlo prima visto che lei ha detto che è una grande dote che lei ha e che le hanno insegnato è l'ascolto ascoltare tanto voglio sapere se lei ha permesso a sua figlia di dirle realmente ciò che pensava di lei e se lei l'ha ascoltata in quel momento ma sì ci sono stati dei non è un lavoro continuativo ma questo non potrebbe esserlo ma non è di questo che anche con mio padre io non ho fatto delle conferenze cioè non avete mai avuto un vero confronto sì ma a momenti non vieni qua che adesso parliamo per carità no è successo poi l'ascolto non vuol dire ascoltare parole l'ascolto secondo me è ascoltare con gli occhi ascoltare ascoltare quello che vedi che è una cosa molto importante che puoi anche non dirmi che sei inquieto ma tanto lo vedo lo stesso io ho letto un estratto del suo libro dove parlava per la prima volta di suo padre l'ultimo libro dove appunto voi vi comunicavate attraverso i vostri silenzi lei sapeva leggere i silenzi di suo padre se li sapeva gustare e godere però penso che le generazioni d'oggi hanno bisogno di esempi un po' più concreti non tutti hanno questa intelligenza emotiva nel saper dare queste letture per questo che le ho fatto queste domande perché poi one more time serve molto un po' come terapia per gli altri che ci si immedesimano e riescono magari a identificarsi in dei momenti e a farli propri a capire come ci si rialza come si affrontano certi momenti perché è troppo facile lamentarsi di ciò che succede però poi bisogna reagire rialzarsi non te lo insegna nessuno se non le cadute esatto sono le cadute che ti insegnano a rialzarti se uno vive le cadute ci sono le debolezze le fragilità io per esempio sono una persona molto fragile al di là di quello che forse uno può avere non so percepito perché poi sai i media i video sono stati molto importanti per me ma a volte sono stati anche dei danni però è andata bene così anche da quel punto di vista lì è stata una vita non certo programmata perché il rapporto con la televisione io ho fatto tante cose con persone che mi hanno insegnato ecco l'ascolto anche quello non tutti alcuni penso a Paolo Limiti che è stato un grandissimo maestro per me mi diceva anche come accavallare le gambe mi diceva se avevo messo due etti in più no no era tremendo perché ci teneva molto costante tante persone con cui ho lavorato e questo dà ovviamente perché poi ci sono stati dei momenti della vita di questo paese in cui io ero nei titoli di testa diciamo così cogne i grandi drammi del paese che ci devo fare e c'ero c'ero e non mi sono tirato indietro mi sembrava importante parlare di quella tragedia alla gente perché poi la gente rimane smarrita quando senti di una ragazza che ammazza coltellate la mamma e il fratellino no no vi ligure oppure appunto il bambino come cogne oppure altre cose è che da un lato hanno creato certo molto popolarità ovvio andavi dal tabacchino e ti riconoscevo questo vent'anni fa anche di più c'è una vita fa ero giovane andavo bene in televisione perché ero diverso cosa le ha tolto la tv ma la mi ha tolto la tv o più che altro la popolarità mi ha disturbato ma questo sono sempre stato disturbato da una buona parte degli intellettuali questo deve essere stato un problema con Basaglia perché siccome Basaglia era detestato da una gran parte degli intellettuali che poi come da rito nazionale ti offrono il caffè quando ti incontrano ti fanno qualche lusinga salvo poi dire che sei il peggiore mafioso o chissà cosa e quindi questa cosa qua cioè l'invidia detta in termini molto perché se no non sarei non ho capito come mai perché tutto questo poi ha comportato per esempio una sorta di silenzio stampa che è durato lustri lei diceva che lei stessa è una persona fragile quindi lei è corazzata apparentemente da una persona un po' burbera un po' aggressiva poi non è così perché in fondo c'è una grande umanità ha dei vantaggi essere stronzi no essere stronzi no nel senso che essere burbero non vuol dire essere stronzo naturalmente io non ho mai avuto nessuna attrazione nei confronti di persone cattive nel senso cattive io usavo stronzo come sinonimo di burbero vuol dire corazzato non di cattivo sì no era per ampliare il discorso nel senso che le persone così che godono a vedere che la vecchietta è scivolata sulla buccia di banana è pieno e i social sono un ripetitore inguaribile delle sfighe del mondo perché le cose buone non sono così social quelle cattive lo sono molto perché fanno emergere qualche cosa che è dentro di noi che in qualche modo è una sorta di sadismo una sorta di di invidia per chi forse stava passeggiando troppo bene troppo allegro che se ti viene adorso una macchina è anche meglio ecco a me questa distruzione delle cose distruzione dei rapporti non lo so la gelosia tutte queste parole di cui sono pieni i romanzi e che hanno fatto fortuna per gli scrittori però a me non dice molto non mi interessa molto non so come dire penso che sia molto più difficile fidarsi e quindi mi interessa di più parliamo di social nel senso che lei dice che la democrazia che è apparente sui social invece l'unica cosa democratica è che abbiamo tutti dei diritti il voto poi tutto il resto invece non è assolutamente democrazia invece guardando i social sembra che tutti abbiano delle vite perfette sembra che sia tutto fatto con lo stampino visto che il social sembra quasi il punto attrattivo più alto dell'essere umano nel mondo contemporaneo cosa pensa di questo nel senso avrà in cura tantissime persone parliamo degli adolescenti coloro che sono incatalessi su questo schermo e sembra non avere altri interessi che effetti possono nascere dentro di loro dopo cioè dove li porta questi giovani che stanno 14 ore con la testa china sul telefono ragionare molto di meno pensare a molto di meno essere molto meno liberi è evidente a tutti ma forse questo è anche un effetto voluto da chi da chi ci sta perché la libertà è anche sofferenza è anche fatica perché se vuoi essere libero se vuoi andare in giro e dire quello che pensi le faccio un esempio appunto dei giovani i rave party io quando è successo questa cosa a Modena recente io ho scritto una cosa che mi sembrava ovvia cioè che il problema non erano i rave party ma i city party che ci sono ovunque pure nei paeselli fino alle 4 di mattina con distribuzione di sostanze spaventosa e che è la stessa cosa solo che quelli fanno un po' più di casino sono un po' più ammassati forse hanno anche qualche decibel in più ma è la stessa identica cosa rispetto al baretto che c'ha la musica tecno fino alle 3 di mattino e davanti c'ha degli zombie non capisco la differenza dire questo è stata una cosa perché perché forse questa cosa qua nasconde anche degli interessi perché non dirlo perché i soci sono un interesse perché Musk non è un proletario è uno che fa miliardi li fa bene a modo suo però non è che fa Babbo Natale quando dice che compra Twitter perché fa bene l'umanità è un simpatico però no non è esattamente così e quello che lui vuole è questo è che tutti stiano su 280 caratteri quanto sono oggi Twitter e si dice che quella è una poco di buono piuttosto che la Meloni no mentre quell'altro sì cioè è una contrapposizione che non porta alla democrazia la democrazia è una cosa molto complicata su cui bisogna ragionare il futuro è complessissimo da qualsiasi punto di vista siamo 8 miliardi siamo 8 miliardi girerà sta gente e gira quindi che ci sia della gente che arriva sulle nostre coste mi sembra la cosa più ovvia che possa accadere però non per questo pensiamo che l'Africa debba essere un luogo non di sfruttamento ma dove si mettono energie e denari e invece non facciamo questo con tutta evidenza da sempre prima gli schiavi poi l'uranio piuttosto che qualche altro metallo prezioso in cambio di qualche chilometro di ferrovia che il futuro non possa essere full elettrico mi sembra ovvio quindi qualsiasi cosa esercizio del pensiero e della critica oggi è paradossalmente più difficile di 30 anni fa eppure siamo tutti più liberi lei può andare adesso all'inate e prendersi un volo low cost e andare a Berlino con il prezzo di un sandwich di una birra possiamo dire tutto quello che ci pare apparentemente e invece è un paradosso però questo uso compulsivo può intaccare un po' la psiche di questi giovani e li può portare a uno stato depressivo siamo in piena pandemia da questo punto di vista e un genitore come può intervenire su questa cosa intanto evitando lui di stare curvo sul telefonino chiuso in bagno possibilmente perché i ragazzi non sono scemi quindi se vedono papà e mamma che smannitano fino a crollare sul divano alle tre di notte cosa devono fare i ragazzi le ragazze poi credo che tra i ragazzi e le ragazze ci siano anche delle idee come sempre divergenti perché lo strabismo è un bene dell'umanità quindi uno pensa che siamo tutti allineati e coperti che siamo tutti un po' uguali tutti molto omogenei poi non ci accorgiamo che c'è qualcuno che nel frattempo è uscito dalla coda ed è andato in una merceria invece che in un ipermercato e magari ti fa venire in mente che il mondo è anche fatto di un'osteria e non solo di un social e questo probabilmente cambierà le cose io non sono così convinto che il destino sia già tutto scritto come chi ci sta vendendo queste cose penso che i ragazzi e le ragazze si dovranno inventare un mondo molto diverso probabilmente anche con più regole non con meno regole per esempio la dignità deve essere una regola la dignità sul lavoro deve essere una regola non puoi prendere un euro all'ora non si può eh vabbè ma poi il pomodoro se no costa la signora all'ipermercato poi le costa troppo ho capito però ci dobbiamo parlare perché se vogliamo dare retta al diritto della signora di comprarsi la conserva ad una certa cifra e questo comporta lo schiavismo beh c'è qualcosa che non va perché questo crea quella instabilità che poi degenera con grande facilità lei parlava di diritti quattro quinti del pianeta non ha diritti anche se una ragazza si scioglie i capelli a terra l'ammazzano quanti pazienti ha avuto lei più o meno nella vita non lo so non so perché migliaia si tra queste migliaia ci sono dei giovani volevo capire da un punto di vista delle droghe nel senso che parliamo della droga apparentemente più leggera che è la cannabis dove ci si documenta sembra che comunque sia propedeutica che sia curativa sia terapeutica non faccia male lei invece ha constatato il contrario attraverso i suoi pazienti mi interessa molto sapere la sua non solo io per la verità la cannabis è una terapia nel senso che aiuta le terapie antidolore per esempio un ottimo coadjuvante per quelle persone lì poi noi abbiamo giocato un po' equivocato sul termine curativo terapia terapeutica perché non lo è esattamente così nel senso che in un certa percentuale che non è enorme ma in una certa percentuale è addirittura molto dannosa nel senso che fa venire a galla un nucleo che magari era sopito un nucleo psicotico sto dicendo e di questi ne abbiamo visti tanti di ragazzi e di ragazze e poi comunque porta ad una sorta di ma perché uno si fa una canna normalmente ti dicono perché così sono meno stressato perché vedo il problema è che tu ti devi stressare perché la vita a vent'anni cosa fai vai in casa di riposo cioè è l'esatto opposto sono tutti in qualche modo anche la cocaina anche l'alcol sopra una certa soglia sono tutti degli anestetici quindi li prendiamo inconsciamente perché questo mondo non ci piace questo mondo è complicato da cambiare allora abbiamo accettato una scoffitta generazionale questo è stato la droga è arrivata negli anni 60 io ero presente perché perché facevamo troppo casino e qualcuno ha pensato beh adesso ci organizziamo possiamo mica metterli tutti in galera però gli diamo li sediamo sì li sediamo un po' e questo io ho visto migliaia e migliaia di morti di eroina perché all'epoca si moriva di eroina adesso di cocaina non esattamente tranne quando vai addosso a un albero alle 5 di mattina perché vai a 200 km all'ora e non hai riflessi però tutto questo perché c'è un giro perché ci piace allora a me piacciono i ragazzi e le ragazze quando evocano qualche cosa di pazzesco invece non sta avvenendo come io vorrei come io mi aspetterei e non credo che sia il discorso di un futuro ottogenario non mi arrendo a questo non credo che sia un discorso da vecchi è da vecchi stare sul divano a guardarsi Netflix è da molto anziani ma vai in una sala goditi una cosa ma anche questa cosa qua è terribile abbiamo anestetizzato perfino l'emozione di un film l'emozione di un film è stata la più grande probabilmente scoperta del novecento ultima domanda lei ha paura della morte sì non solo ho paura della morte ho paura della sofferenza ho paura di non poter mantenere probabile un sogno grazie Paolo grazie a te grazie mille grazie a te grazie a te